Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Jessica Battistello, ex concorrente di Temptation Island, è diventata mamma. Dalla Repubblica Dominicana, dove vive con il compagno Stefano Francescato, ha annunciato la nascita del figlio Gabriel, arrivato il 21 agosto alle 15.32. La coppia aveva scelto di non conoscere il sesso del bambino, rendendo la nascita una doppia sorpresa. Jessica ha condiviso la sua gioia sui social, confessando di essere completamente assorbita dall'emozione. Solo pochi mesi fa, aveva svelato la gravidanza dopo un periodo di assenza dai social, seguita dal matrimonio con Stefano e dalle parole di benedizione del suo ex, Andrea Filomena. Jessica era diventata nota partecipando a Temptation Island con Andrea, ma la loro relazione si era conclusa durante il programma. Dopo un tentativo fallito di riconciliazione, Jessica ha trovato una nuova vita e l'amore nella Repubblica Dominicana, dove ora è felicemente mamma.